Bentornati o miei scomunicati nel sacro ordine di Sebigi Games per un nuovo video Scusatemi per questa pausa ragazzi, sono un attimino in crisi perché non ci sono molti contenuti da portare su Afganena Quindi se avete dei suggerimenti sia per contenuti che per anche altri giochi da provare Fatelo sapere nei commenti perché sono un attimino in crisi Quindi ci vorrebbe qualcosina di nuovo, una ventata di novità da portare nel canale Comunque è uscito Ezio Auditore sia sul Test7 che sull'Official Sull'Official ancora non c'è la possibilità di prenderlo però abbiamo sul Test7 già delle anteprime, delle preview su come andrà preso Allora ragazzi, se questo video attiva 500 like lo shoppiamo subito Ezio Lo compro così almeno lo possiamo provare subito e vediamo un pochino com'è, se vale la pena e se è worth farmare tutti questi punti per poterlo giocare Se il video arriva a mille compriamo anche gli ultimi due item da agility dimensionale che mi mancano che sono l'arma e l'elmo Quindi lasciate un like se mi volete far spendere come al solito i soldoni che vedo che vi piace questa cosa Quindi andiamo a vedere subito tutte le informazioni del caso su questo nuovo personaggio Andiamo a vedere le skill effettivamente con mobilia e signature e il modo per ottenerlo Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sugli usciti nuovi video Twitch e Instagram, su Twitch vado live con Afkarena, con Rocket League Ora proveremo Fall Guys per l'appunto oggi, visto che ci stanno giocando in molti E anche altri porto anche altri giochi quindi venite a metterci il follow E su Instagram invece posto foto, quello che faccio, Afkarena e così via, le storie anche delle live di Twitch Quindi se il video vi piace lasciate un pollicione up e cominciamo subito con Ezio Auditore da Firenze Bellissimo! Prima cosa da vedere, è gratuito, 61 giorni Eccolo qua, l'evento funziona esattamente come il Nakoruru Avremo la possibilità di comprarlo, è esattamente come prima Quindi rimbocchiamoci le maniche ragazzi Dopo aver preso Nakoruru prendiamoci anche Ezio Auditore Ora vedremo quanto ne varrà la pena Dallo skill set quando è uscito di Afkarena dell'uscita di Ezio Praticamente avevamo visto dalle skill che sembrava sì e no Però quando sono uscite le skill, beh, il kit è molto molto interessante Andiamo a vederlo subito Intanto, prima di tutto, lo mettiamo in prova Avremo comunque l'Arena of Trials con tutte le reward Sempre 60 pietre e tutto il resto Quindi ci sta, sta di finirlo tutto, cominciamolo Lo andiamo a mettere nel dummy, ve lo lascio vedere con calma Per bene, lo mettiamo a per uno Ok, cominciamo a vedere le skill Allora, partiamo dalla ulti Occhio dell'Aquila, Ezio contrassegna tutti gli obiettivi nemici con indicatori Soglia di esecuzione, che è stile quello di Nara, lo vedete adesso Mette questo Trisold La salute dell'obiettivo quando scende sotto la soglia Che è pari al 27% della salute massima personaggio designato Ezio farà in modo di ucciderlo subito Qui dice rapidamente In realtà non è che ci metta proprio pochissimo ragazzi Ci mette un po' Tipo a volte succede che gli dà anche qualche colpo prima O lo ammazza addirittura senza che parta insomma la skill della ulti Poi, ogni volta che questa abita viene usata contro nemici già contrassegnati da soglia di esecuzione Le loro soglie aumenteranno di un ulteriore 8% della salute massima Se riutilizziamo la ulti e non abbiamo ancora ucciso qualcuno e ha già un Trisold Quel Trisold aumenterà dell'8% Poi, se usata contro altri eroi Il valore massimo della soglia di esecuzione non supererà mai il 1000% del valore di attacco di Ezio Eccolo qua, il tetto Ok, quindi è importante questa cosa per capire dove stiamo, in che direzione andiamo 171.000 di attacco Più o meno, insomma, fra una cosa e l'altra Quindi il 1000% è un milione e 7 Beh, beh, sì, ci sta Ci sta, ci può stare Non è poco, non è poco Il Trisold massimo non è poco Poi, contro i boss invece Il danno inflitto è pari al 500% del valore di attacco di Ezio Quindi lo possiamo usare anche contro i boss per boostare il danno I nemici contrassegnati da un indicatore, questo livello 2 Soglia di esecuzione ricevono il 45% di danno in più dagli attacchi di Ezio Buono E poi il 65% Non male, non male Interessante Vendetta finale Attivata una volta ogni 9 secondi Questa abilità consente a Ezio di evitare tutti i danni ricevuti dall'attacco di un singolo bersaglio nemico Dopo aver evitato l'attacco, Ezio scaglia un contraattacco che dà la priorità al nemico attaccante Quindi verrà, se viene colpito, anche da lontano, se non mi sbaglio, funziona Lui praticamente si rigirerà contro quel tizio Quando contraattacca un nemico vicino, Ezio sfera un attacco in 6 fasi Minchia, 95% per attacco Quindi sono veramente tanti 570% del suo attacco, buono E poi da lontano invece usa la balesti e tira una fiocina da 300% del suo attacco Livello 2, livello 3, livello 4 abbassano il cooldown fino a 6 secondi Questa cosa sembra molto Keltur, ecco Sì, perché anche Keltur ha una skill simile Bomba fumogene I nemici sono avvolti da una densa nuvola che fa perdere i loro 105 punti di accuratezza Che non sono pochi 70 punti fretta, che è tantissimo E fa aumentare il 35% la probabilità di ricevere i danni critici dai nemici per 9 secondi Qui credo che sia sbagliato, abbiamo bisogno di vederlo in inglese Abbiamo il test 7 apposta Increased chance of suffering, ok Di subire critical damage Quindi di subire danni dei enemies dai loro nemici, ok Ok, è scritto a cazzo di cane ragazzi Significa che i nostri alleati hanno il 35% o più di Crittale Scritto chiaramente con i piedi come al solito I nemici poi perdono 120 accuratezza e 135 Questo è molto molto buono ragazzi Per un motivo molto semplice Perché semplicemente c'è l'accuratezza bassa per tutti gli avversari Tutti quelli che non sono mage Significa che veramente possono cominciare a non colpirci mai E' molto molto buono Dura 9 secondi questa skill Se riusciamo a dargli un po' di fretta probabilmente la teniamo quasi perma Il range è anche abbastanza grande Illusione Ezio riceve 4 punti illusione ogni 1 secondo durante le battaglie Fino a raggiungere 120 punti Questo è molto 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 buono Veramente interessante Perché 120 di illusione Considerando che rivediamo la nostra Talin al volo La nostra Talin di illusione di schivata C'è 717 punti Aggiungergli ancora diventa quasi imprendibile Considerando poi che gli buttiamo giù l'accuratezza agli avversari Grazie alla skill bomba fumogena Sicuramente può essere molto molto interessante Livello 2 Ezio ha la possibilità di recuperare il 6% della propria salute massima Ogni volta che schiva con successo gli attacchi nemici Qui vorrei vedere la probabilità di recuperare Questo è molto molto buono Comunque questa abilità può essere attivata una volta ogni 2 secondi Sgravatissimo E poi l'8% Beh molto molto forte Allora il kit sembra interessante Andiamo a vedere se viene pompato assai dalla signature Ogni volta che Ezio sconfiggi un nemico Tutti i nemici contrassegnati con indicatori della ultri Soglia di esecuzione Aumenteranno le loro soglie di 10 per i successivi Ok Del 10% per i successivi 50 secondi Bello Questa abilità non può essere accumulata Questo è bello Bisogna vedere se ha un 10% sulla barra della vita Quindi arriverà al 37% più tutto quello che mettiamo oltre Potrebbe essere interessante Ogni volta che Ezio sconfiggi un nemico Riceve il 35% di danni in meno dai nemici per 10 secondi Sgravato Poi arriva al 55% E al più 30% ogni volta che Ezio sconfiggi un nemico Viene attivata la sua abilità assalto schermato Ok qui mi sa che c'è un errore di traduzione Tanto per cambiare È Smoke Bomb infatti Riattiva questa Riattiva questa Interessante Interessante Ora la roba che va sulle kill Non mi piace tantissimo Perché non è che ammazziamo così tanto Soprattutto un PvE Però interessante Il PvP ragazzi è sgravatissimo Il PvP è veramente rotto Andiamo a vedere La mobilia esclusiva La signature sembra molto interessante Al momento sembra molto interessante Tutte le abilità di controllo negative Vengono rimosse da Ezio Ogni volta che un colpo mortale Viene infritto a un nemico A seguito della sua abilità Occhio dell'Aquila Una volta che abbiamo tirato la ulti E uccidiamo con il Trisold Poi se facciamo un cleanse sul nostro personaggio E togliamo tutti i debuff Buono A 9 su 9 ottiene 500 punti energia All'inizio delle battaglie Questo è molto forte Startare subito Quasi subito con la ulti Soprattutto se giochiamo Rowan Potrebbe essere molto onesto Potrebbe essere molto molto onesto Allora In generale la mobilia La prima mobilia Non mi piace tantissimo Però ci può stare Un cleanse Alla fine ci sta L'avrei preferita Un pochino più potente A occhio e croce ragazzi Non credo che andrà Proprio altissimissimo Forse Fra Forse TRS meno Cioè Diciamo che è in TRS Ma non va Più in alto di così Beh Mi piace Mi piace molto ragazzi Non è che Mi piace molto Però Allora intanto è un Ranger Quindi top Lo possiamo mettere Nelle prossime spedizioni abissali E poi considerando Che lo possiamo giocare con Nakoruru Ci fa anche bonus di fazione Che non è male Poi abbiamo anche Ukio Che vabbè Da scioppare e basta Quindi sti cazzi Beh Allora Come personaggio mi piacicchia Ci può stare Ci può stare Dai Ci può stare Vedremo Vedremo un po' come andrà Allora ragazzi Io direi di concludere qui Perché abbiamo detto praticamente tutto Spero che uscirà una patch O qualcosa comunque Da ridiscutere in questi giorni Quindi da rivederci presto Noi ci vediamo prossimamente Per un altro video Io spero che il video vi sia piaciuto Se si lasciate un pollicione up Ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se avete dei nuovi giochi Che vorreste che provassi Dei nuovi contenuti Delle guide Che pensate di aver bisogno Di avere Quindi fatemi sapere nei commenti Datemi qualche spunto Ragazzi Sono un po' in difficoltà In questi giorni Quindi accetto Volentieri aiuti Ora andrò live Con Fall Guys Su Twitch Se vi va di passare E se il Se avete visto il video Fino ad ora Il commentore di questo video È Ezio Auditore Quindi scrivete nei commenti Ezio Auditore Per farmi vedere Che avete visto il video Fino alla fine Concludiamo qua ragazzi Io sono Sevigi E noi ci vediamo prossimamente Per un altro video Per un altro video